Svegli sbrigano e fattete dentro i cinque che l'avvocato ti denuncia pure che leva la casa messa di merda altro che avvocato mio io ti ammasso a te quel pezzo di merda delus chi è lui? ha capito che sparo il testo? chi è? che è? i cinque regli mi hanno provato a menare i cinque ha capito? ha infamico mi ha schioppato? ti ho ammassato tutti e cinque le botte io le guardie stanno là sti infami c'hanno paura ha merda com'è venite? eh? in sette gli ho detto porco di Dio ma ammasso a tutti quanti ha merda bello porfero con il fondo qua giù mi devi schioppare oggi sei messo un occhiare alla robocop eh? son te Valentino sai mica e mo te ne regalo un paio d'ivs allora ce l'hai? subito vaffanculo ma questi qua non mi metto io non ti preoccupavo allora che cazzo voi questi? questi li dai a tua moglie però perchè sono da donna sono da donna quelli? no vabbè ma io sono bisex Valentino originale gli ha detto ha detto ha detto ha detto ha detto mi ha perso di merda ma hanno un protone di esecuzione li ucciti eh? tutti li ucciti in me mamma ma questo numero che mi ha fatto chiamare ma chi era? è Roberta la mia ragazza quindi c'hai l'onore di aver numero? chi è? perché tu ne devi evitare la roba e devi andare a far pure sparire lei io e padre e tutti quanti fataci di ammasso pure il padre e Stefano Perugini fammi i bocchini ci so tutto quanto di tutta Roma ancora non l'avete capito è deficiente ma con che cazzo stai a parlare? eh? che la Calabria comanda il mondo dei vicini che va a mazzo con secondo porco Dio avvelenato? no ma chi si è avvelenato proprio? e più la polizia vedi come scappa vieni vieni mi sei matto a scocciare mi sei matto a scocciare mi sei matto mi sei matto proprio guarda Dio mi sei matto te lo chiedi mi sei matto un matto come una bigna украї Diccio Asso nello